No, sono uno che pensa che è meglio non tradire, ma se tradisci è meglio che te lo tieni per te. La mia prima trambata, che risale ai tempi delle medie... Si chiamava? Rebecca. E com'era Rebecca? Piccio biondo. Rebecca adesso ti vede e chissà cosa pensa. Guarda sto coglione. Ma hai fatto sesso per noia? Sesso è una cosa bella. Ce lo faccio per piacere. Per noi ho fatto altre cose. Sei molesto? No. Però sono fuocoso. Tutta la vita o una botta e via? Per tutta la vita. Il cuore è una capanna o letti separati? Il cuore è una capanna. C'è un traditore? Non ho mai tradito carnalmente. E con la testa? Un sacco di volte. Tradimento lo confessi? No, mai. Per cui sei un fedifrago bugiardo? No, sono uno che pensa che è meglio non tradire, ma se tradisci è meglio che te lo tieni per te. Fumi? No. Bevi? No. Droghe? Mai sperimentato. E anche un fungo allucinogeno? Sì, uno sì. Ma hai fatto marchette e basta? No. Le faresti? Che marchette? Una signora di una certa età viene da te e... Se sei buona c'è sto ma non mi paghi, quale marchette è un piacere.